Eccoci ancora in diretta negli studi del nostro telegiornale, è scomparso uno dei collaboratori storici di Telereggio, Dante Bernoldi. Aveva 88 anni ed è stato anche uno dei fondatori della WISP, l'Unione Italiana Sport per Tutti. Il 24 settembre scorso fece la sua ultima apparizione in pubblico a Reggio in un'intervista per il Memorial Odone Giovannetti. Dante Bernoldi era uno dei fondatori della WISP, l'Unione Italiana Sport per Tutti. Bernoldi è stato anche uno dei collaboratori storici di Telereggio, è scomparso ad 88 anni nella sua casa di Via Tonale in zona Santa Croce. Le complicanze dovute a uno scompenso cardiaco gli sono state fatali. Grande appassionato di sport, giornalista pubblicista, per la nostra emittente ha sempre seguito il Memorial Eaco Catelli, torneo internazionale della Federazione Italiana di Bocce. Dante Bernoldi è stato anche il conduttore della prima edizione della nostra trasmissione dedicata alla sanità, il medico e il cittadino. Iscritto al PSI ha anche partecipato attivamente alla vita politica della città. È stato corrispondente del quotidiano socialista Avanti e dipendente di Cop Nord Emilia e Cop Nord Est. Bernoldi era rimasto vedovo nel 2015, lascia due figli, Edoardo e Mauro, tre nipoti, Stella, Martina e Mattia e un pronipote, Leonardo. I funerali si svolgeranno sabato mattina alle 11 all'obitorio di Coviolo. Dopo la benedizione la salma sarà cremata. Alla famiglia Bernoldi le condoglianze e l'affetto di tutta Telereggio.